musica Jack si gira ha detto le polveri artigliere rampo ha detto proietto Giovanni dalle bande nere vituoso ha detto alla pavabola ci metti la bottiglia prima allora Giovanni tu cosa fai accendi o ci metti la bottiglia? ci provi a mettere la bottiglia ci provi ci provi ci spoglie tutta la bottiglia e poi dai mortaisti pronti buon ben buca la spaggia l'abbiamo usata anche già da argente e la lattina? si ma quando la infia dentro poi trampo spiega la dinamica del proietto vi tusso che del cinque fagioli non ci crede si ma hai visto che si è confiato un mortaio vale uno però sai cosa le mettevamo e poi metti i tappi su ah si allora intervista al mondo dello stand un trooper qui a Fiera di Santa entriamo chiudendo bene la porta col gancino vi tusso vari fucili fucili il megafono molto importante per dare giudizio allora ragazzi tosi giorni zero vito giorni per dire cagata così che c'è giorni zero tosi giorni zero zio muffa e anche zio mosso da oggi perchè le foto è sempre mosso poi beh la metti i trebbi a gioco ma il presidente quando c'era da assemblare lo stand dov'era? il presidente lavorava per mantenere i vostri vizi per il popolo posso notare quest'anno la dinamica del poligono la muffa ancora radicata al suo interno vediamo pochi fucili è molto muffoso pochi fucili anche rotti poche batterie e scariche un video beh perchè l'ha detto alle batterie 180 inquadra un ragazzo scandaloso che è lo scandaloso? ragazzo scandaloso ragazzo che è lo scandaloso? allora fammi il video ti faccio vedere cosa si fa mentre pompi ciao ciao ragazzo ora vi faccio vedere come si fa fuoco allora il mio assistente gecco illustrià la dinamica di fuoco allora vediamo ragazzo con molti giorni quasi biblici apocalittico apocalittico scandaloso scandaloso presidente se sbagli anche il prossimo vai giù mamma mia 20 coppi 4 bestagli vai rampo vai rampo puoi essere fucile giorni in zero giorni in zero rampo giorni in zero rampo adesso fermiamoci illustreremo illustreremo gu 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 ora 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 partirà la mia amica a 60 vai stiamo partendo con la 60 60 con i pallini del club i miei pallini e un po' del club sono dei 0,20 0,25 ce ne sono anche delle batterie aggiuste che almeno sia 11,1 questa qua funziona ancora ha domandato almeno 30 si è 24 ma il bersaglio è vero 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 uno cosa c'è ha fatto cesso giorni potete vedere adesso all'interno la fine dei pallini ho vuotato il caricatore ho perso un bulto stasera è tutto ciao a tutti buona serata finito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dov'è Luca? 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 Dov'è Luca?